Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Nunzio Stan Campiano è uno dei protagonisti della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi Ormai, il famoso ballerino di latino americano lo conosciamo molto bene, ma avete mai visto la mamma? Una donna meravigliosa, vediamola Nunzio Stan Campiano di Amici21.Nunzio Stan Campiano, un ballerino super talentuoso, tenace e anche dotato di una grande simpatia, infatti, grazie ai suoi divertenti siparietti è diventata una star del web Ormai lo conosciamo molto bene, ma avete mai visto la donna più importante della sua vita? Stiamo parlando di sua madre, è una donna veramente bellissima, vediamola Nunzio Stan Campiano è il legame con la sua famiglia.Classe 2003, nato ad Adrano in Sicilia ad ottobre Sin da piccolo il suo sogno è stato quello di diventare un ballerino professionista di latino americano Ha partecipato a numerose gare nazionali e internazionali di danza, ma la vera svolta è arrivata ad Amici di Maria De Filippi Il giovane è arrivato nel Talent nel settembre del 2021, però, ha perso la sfida contro Mattia Zenzola e non è riuscito a prendere il banco Ma quando il ballerino di Raimondo Todaro è stato costretto ad abbandonare Amici a causa di un infortunio, il bel siciliano è ritornato a febbraio e ha conquistato il posto nella scuola di Amici Nunzio Stan Campiano, studia latino americano da quando è bambino, una passione fortissimo che i suoi genitori hanno sempre appoggiato, sin dall'inizio Il ballerino, in particolare, è molto legato alla sua bellissima mamma, conosciamola meglio Nunzio Stan Campiano di Amici 21.La mamma di Nunzio Stan Campiano, è bellissima, foto Grazie all'affetto e al supporto dei suoi genitori, Nunzio Stan Campiano è riuscito a raggiungere i suoi sogni Il ballerino è molto legato alla sua famiglia, soprattutto a sua mamma Lo abbiamo visto anche ultimamente nel daytime settimanale di Amici 2022, quando lei gli ha scritto una lettera con delle parole davvero emozionanti e commoventi Ti ringrazio di esistere, sei stato un padre per tuo fratello Andrea, ti auguriamo di vivere la vita con momenti indimenticabili come amici Resta così come sei Sul profilo Instagram di Nunzio, non è passata inosservata una foto in cui si vede lui che tiene per mano sua mamma Lei è davvero bellissima, infatti, ha ottenuto migliaia di mi piace e commenti di apprezzamento per la sua bellezza Purtroppo, però, non abbiamo nessuna informazione riguardo la carriera e vita privata della donna Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao